E' uscita la notizia sulla verità dell'ultima foto di Silvio Berlusconi. Ricevo un'informazione di un cliente, di un signore, che mi vuole provare a vendere la fotografia di Silvio Berlusconi prima di essere ricoverato in fin di vita in una condizione piuttosto. Benvenuti nel canale Fabio Picce. In un'inaspettata svolta di eventi, Fabrizio Corona, noto fotografo e personaggio televisivo italiano, ha lanciato un'accusa straordinaria alle principali testate giornalistiche. Secondo Corona, queste testate avrebbero pubblicato una foto di Silvio Berlusconi un giorno prima della sua morte, accanto a un bambino. Tuttavia, nella foto, l'ex primo ministro appariva come un'ombra di se stesso, consumato dalla malattia che lo affliggeva. Ciò che rende questa accusa ancora più sorprendente è che Fabrizio Corona sostiene di aver avuto a disposizione una foto di Silvio Berlusconi scattata poche ore prima della sua morte. Nonostante avesse l'opportunità di pubblicarla, Corona afferma di aver scelto di non farlo per motivi etici e professionali. Un'insolita dichiarazione da parte di un uomo che ha fatto della speculazione sulle fotografie e la sua professione, e che ha affrontato diverse condanne in passato. La domanda che sorge spontanea è, è davvero cambiato il modo di lavorare di Fabrizio Corona? Oppure questa accusa è solo un'altra mossa pubblicitaria per promuovere il suo profilo sui social media? In un'epoca in cui la credibilità dei media è spesso messa in discussione, le affermazioni di Corona fanno riflettere sulla necessità di rispetto e etica professionale nel campo giornalistico. Mentre alcuni saranno scettici riguardo al presunto cambiamento di Fabrizio Corona, altri potrebbero trovare questa storia intrigante, spingendoli a voler saperne di più. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda e vedere se il passato di Corona continuerà ad influenzare la sua credibilità, o se riuscirà a dimostrare un vero cambiamento nel suo modo di lavorare.